una presentatrice, ah è qui con noi, Imene è già qui con noi, lei è Imene ed è una presentatrice argentina e ha fatto un programma in Argentina proprio sul Festival Bar, uno speciale che pare sia andato anche bene infatti chiedi come è andata perché vogliamo, siamo tutti compiose tu che parli, sei poliglotta è spagnolo un pochito come anduvo, noi sappiamo che usted ha presentato un programma sopra il Festival Bar, come anduvo molto bene, io l'ho presentata in un canale che è Telefè fu un esito e volvi per essere nuovamente ciao Verona, come vai? allora, ha detto che è stato un successo questo speciale sul Festival Bar l'ha fatto sulla rete Telefè, è andato talmente bene che quest'anno è ritornata proprio qui per rifarlo meravigliosa, ma io voglio che chiede qualche cosa io ho una domanda, in italiano poi me la traduce a te tipo che sorprese ci ha portato invece da Sud America eh, sappiamo che hai una sorpresa del Sud America hai una sorpresa del Sud America io sono molto contenta e molto orgullosa di presentare un pochito di presentare una cantante di molto successo qui in Italia è un orgullo presentare una tocalla di nostro paese èlla è Marcela Morello per tutta la vita è un amore eterno è un amore Un amore sagrado Para toda la vita Te quiero Para toda la vita Para toda la vita Te quiero Para toda la vita Un arco iris radiante Aparece de pronto Cariño mío Para pintar con colores Tu nombre y mi nombre Tu nombre y el mío Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Para toda la vida Te quiero Para toda la vida En el sol y la luna Están en tu corazón En el sol y la luna Están en tu corazón En tu corazón Este es un amor eterno Este es un amor eterno Un amor sagrado Un amor sagrado Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida En el sol y la luna Están en tu corazón Está en tu corazón Y la luna Está en tu corazón Están en tu corazón Están en tu corazón Están en tu corazón Están en tu corazón